In questo fine settimana la città con il suo voto ha preso due decisioni importanti. La prima, quali dei candidati al sindaco dovesse andare al ballottaggio, ha scelto Nargi e Gengaro, ma ha preso una decisione forse ancora più importante. Con la percentuale dei voti che ha onorato il patto civico, ha di fatto deciso chi sceglierà il prossimo sindaco della città di Avellino. Il patto civico sceglierà il prossimo sindaco di Avellino, Consiglino Genovese, che stamani ha tenuto una conferenza stampa presso il suo comitato elettorale di Piazza Libertà per definire i margini di apparentamento con Laura Nargi e Antonio Gengaro, i candidati sindaci che si sfideranno nel ballottaggio di domenica e lunedì 23-24 luglio e che Genovese ha incontrato ieri per aprire con loro un dialogo sul futuro della città. Con o senza apparentamento diremo chiaramente alla luce del sole quali saranno le nostre decisioni, assicure Genovese. Noi siamo pronti a dialogare sulla base di presupposti specifici. Il primo, una condivisione chiara, netta, seria, trasparente del nostro programma. Noi alla città vogliamo dare delle regole chiare e se dobbiamo fare degli accordi, le regole di questi accordi. La città deve sapere su che cosa stiamo ragionando. Ovviamente poi la condivisione amministrativa per l'attuazione del programma non gli interessano spartizioni di potere. Ci interessa che tutto ciò che abbiamo concordato con la nostra città, la voce della nostra città, possa essere garantita nella gestione amministrativa. A chi indica il giornalista Rai il possibile titolo sul servizio che lo vede come protagonista dall'altra parte della barricata e cioè Genovese a ballottaggio verso il sostegno di Laura Nargi risponde così. No, Genovese va verso l'appoggio di chi vuole condividere un'idea di città che è quella espressa dal patto civico. Chiediamo questo, chiediamo di poter condividere le idee che al primo posto ci siano le politiche sociali, che ci sia una democrazia partecipata, una città green, solidale, sostenibile, un'area vasta, insomma tutto ciò che abbiamo espresso nel nostro programma perché è un programma che è nato dalla città con la città e noi dobbiamo dare risposte alla città.